Dal momento in cui piangendo vieni al mondo, cominci a compiere il tuo dovere. Nel piano di Dio secondo, il suo ordine, assumi il tuo ruolo ed inizi il viaggio della vita. Qualsiasi sia il tuo background o la strada davanti a te. Nessuno può sfuggire all'orchestrazione, al grande arrangiamento di Dio. E nessuno controlla il suo destino, perché soltanto chi governa ogni cosa è capace di un tal lavoro. Fin dal giorno in cui l'uomo viene al mondo, Dio è già la sua opera. Dirigendo l'universo controlla il mutamento, il movimento di ogni cosa. come ogni cosa, l'uomo riceve, inconsapevole il nutrimento della dolcezza con la pioggia è la rugiada di Dio. Come ogni cosa, l'uomo vive inconsapevolmente sotto l'orchestrazione della mano di Dio. Il cuore e lo spirito dell'uomo sono entrambi nella mano di Dio, e nei suoi occhi si contempla la vita dell'uomo, a prescindere che tu ci creda o no. Tutte le cose viventi o morte passano, cambiano, rinascono, scompaiono, in base ai pensieri di Dio. Ecco come Dio regna su ogni cosa. Il cuore di Dio. Il cuore di Dio. Il cuore di Dio. Il cuore di Dio. Il cuore di Dio.